La Corte Costituzionale dovrebbe pronunciarsi sul merito della legge, naturalmente qua c'è il problema dei tempi che succede nel frattempo e qua la Corte Costituzionale ha dei poteri di sospensione che potrebbe probabilmente esercitare, però adesso non astrologerei su quello che potrebbe avvenire, il problema che abbiamo posto noi è quello, un quesito eterogeno trasforma il... Non mi eserci, adesso non astrologerei su quello che potrebbe avvenire, non mi eserci, adesso non astrologerei su quello che potrebbe avvenire.